In Puglia, nonostante l'adesione da parte del personale sanitario alla campagna vaccinale è stata elevata, la percentuale di chi ha rifiutato l'antidoto contro il Covid-19 è intorno al 10%. Naturalmente la somministrazione del vaccino è ancora in corso e tutte le asle provinciali stanno ricontattando tutti quelli che non si sono ancora sottoposti al siero. Poi, come prevede la legge regionale, scatteranno le sanzioni previste e di conseguenza scatteranno anche i trasferimenti per gli operatori sanitari Novax. A febbraio, infatti, il Consiglio regionale pugliese ha approvato una norma che inibisce l'accesso ai reparti degli istituti di cura agli operatori che non siano stati vaccinati contro il Covid. Ad oggi nessun operatore Novax è stato trasferito, anche perché la fase 1 della campagna vaccinale non è ancora conclusa e, come detto, i non vaccinati sono stati richiamati per essere sottoposti al siero anti-Covid. Comunque, anche se la norma regionale che prevede il loro trasferimento non sia stata ancora promulgata, il Dipartimento Salute ha inviato una circolare alle aziende sanitarie, invitando i manager a trasferire temporaneamente gli operatori non vaccinati dai reparti ospedalieri dove vengono gestiti casi Covid o sospetti. Tutta la Puglia è in zona rossa da questa mattina, restrizioni più rigide almeno per le prossime due settimane. Con le nostre telecamere siamo stati in giro per la città di Foggia per ascoltare con quale stato d'animo è stata presa la decisione del Governo. Lei è d'accordo sulla zona rossa? In massima sì, diciamo di sì, se c'è una motivazione strettamente correlata alla salute pubblica, però mi sembra che in definitiva non cambia molto, dal punto di vista pratico. Vede tanta gente in giro? Un po' di meno la vedo, però insomma, tutto sommato, alla fine le attività mi sembrano che sono sempre le stesse, le macchine più o meno a quest'ora sono queste. Rispetto ad un anno fa com'è la situazione secondo lei? Identica. Secondo me il virus deve fare il suo decorso, naturale, come dimostra la storia. Non è che noi potremmo decidere noi se essere d'accordo o meno, non abbiamo questa facoltà penso, però personalmente se serve realmente a qualcosa sono d'accordo. Un po' di paura rispetto all'anno scorso? No, io no, di meno. La prima volta è stato più, è stato diverso in pratica. Avevamo molta più paura. Su alcuni aspetti sì, ha fatto molto bene, ha fatto, perché comunque ci stava tanta libertà per tutti e la punta si sta alzando, sperando che questa settimana la faccia calare con questo blocco. Non ha fatto bene il governo a chiudere? La verità no. Molti settori piangono per dirla, insomma, non è possibile voglio dire. Il piano vaccinale sta andando avanti, i pro e i contro si sentono, si leggono, si vedono, non so, però molti commercianti ne risentono giustamente, non è soltanto la ristorazione, tutti i settori. Aspetto allo scorso anno c'è più paura? Ma lo scorso anno era una cosa piovuta dal cielo, non sapevamo nemmeno che era pandemia, insomma, parliamoci chiaro. Ci siamo andati a cercare la parola sul vocabolario per capire che cosa significasse pandemia. Adesso sì, ma è da ottobre. I foggiani hanno paura del contagio, ma escono lo stesso, non solo per andare al lavoro. Da oggi la Puglia e anche Foggia è diventata rossa, ma per strada è come se fosse un giorno normale. Numerose le automobili che hanno percorso le strade principali e secondarie della città, pochi controlli. Certo, pochi anche i pedoni incontrati per strada, ma questo è l'effetto della pioggia, del maltempo che ha colpito gran parte del territorio. Nello scorso fine settimana, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno effettuato numerosi controlli nelle zone della movita di Foggia, contestando anche diverse violazioni alle norme anti-Covid. Ma non siamo certi che i foggiani rispetteranno i divieti imposti dal nuovo colore. Ecco perché è auspicabile che ci siano maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine per tutelare chi, invece, rispettoso delle regole, resta in casa, uscendo lo stretto indispensabile per il bene suo e per il bene degli altri. E da oggi, con l'entrata della Puglia in zona rossa, ristoranti chiusi anche a pranzo e consentito solo l'asporto e le consegne a domicilio. Troppo poco per i ristoratori della provincia di Foggia, costretti a fare i conti con il annetto calo di fatturati e per i ristori ancora insufficienti. Il punto è al capo, di nuovo chiusi. Eh, è una sofferenza. Purtroppo, dopo un anno, siamo ritornati all'inizio, con la ristorazione bloccata. Ristori zero, perché non abbiamo avuto niente. Lo Stato pensa soltanto a bloccare. Non so come faremo ad andare avanti con questa situazione, perché non ce ne può più, sinceramente. Noi, sottosommato, riusciamo a lavoricchiare, perché abbiamo, oltre alla ristorazione, abbiamo il lavoro al dettaglio, di vendita al dettaglio. Però pensiamo a tante attività bloccate che non riescono a pagare manco il fitto. Purtroppo c'è una sofferenza generale. Speriamo che dopo questo altro blocco di blackout della pandemia possiamo ritornare a lavorare. Però la situazione è quella che è. Il virus gira, contagia e bisogna anche tutelarsi, insomma. Noi, come tutti i giorni, facciamo sia vendita di carne che ristorazione, facendo carne alla brace e contorni. Come potete vedere, anche stamattina abbiamo preparato dei contorni in cucinato. Ma purtroppo, con l'attività bloccata di ristorazione, molta di questa roba, sperando che possa funzionare da sport, perché noi lavoriamo anche da sport, però adesso la gente è entrata in panico, sinceramente. Penso che già da ieri sera si è visto che non è uscito nessuno, perché ieri e domenica siamo stati aperti, perché noi la sera facciamo panini con carne alla brace e tutto il resto. Purtroppo il panico è tantissimo. Nel primo giorno da Regione Rossa continua ad aggravarsi la situazione epidemiologica in Puglia, nel resto d'Italia. A preoccupare il più 100 nella casella delle terapie intensive, a cui si aggiungono i 365 ricoverati in più negli altri reparti Covid. Sale al 34% la soglia di posti letto occupati a fronte di quelli disponibili, ovvero il 4%, oltre alla soglia critica. Si avvicina pericolosamente alla soglia critica del 40% anche il dato dei posti letto negli altri reparti Covid, dove è stato raggiunto il 38%, il più 1% rispetto a sabato. A crescere è stato anche il tasso di positività. Il rapporto tra casi riscontrati e tamponi processati è ormai stabilmente sopra l'11% da 18 giorni consecutivi e negli ultimi 4 giorni è passato dal 12,8% del 10 marzo al 17,2% registrato nella giornata di ieri. Peggiora anche il dato dei ricoveri. Sono 1.632 le persone ospedalizzate, più 15 rispetto a sabato, con 5 nuovi ingressi in terapia intensiva, dove i ricoverati complessivi sono 174. In questa settimana sono stati 117 nuovi ingressi nei reparti di rianimazione accertati, ben 37 in più rispetto alla scorsa settimana. Superata nuovamente, dopo diverse settimane, la soglia critica relativa ai posti letto occupati in terapia intensiva ed è stata raggiunta quella del 40% per gli altri reparti Covid. È cominciato questa mattina alle 8 il trasferimento dei pazienti Covid dal Policlinico di Bari all'ospedale delle Maxi Emergenze e all'interno degli spazi della Fiera del Levante. Saranno spostati i pazienti uno ogni ora e a quanto avvenuto durante le simulazioni di sabato scorso avranno tre squadre di medici, infermieri e operatori sociosanitari a prendersi cura di loro. I sindacati degli ordini dei medici hanno evidenziato come la Regione non si è preoccupata di stanziare dei fondi un capitolo di spesa per far funzionare i 152 posti letto in più rispetto a quelli preventivati dal sistema sanitario regionale né tantomeno sono stati stabiliti dei parametri organizzativi. Sarà difficile infatti gestire i pazienti con il poco personale a disposizione e nel momento in cui si prelevano specialisti di anestesia e rianimazione dal Policlinico questi dovranno bloccare le attività che garantivano nei posti in cui sono stati prelevati. Trovare personale esterno poi risulta altrettanto difficile sia perché la terza ondata Covid sta travolgendo tutta Italia sia perché non sono stati messi in campo incentivi economici per chi dovesse arrivare da fuori regione o dall'estero. Io temo che quella struttura andrà sempre più incrementandosi di posti letto di intensiva e tenga conto che il parametro per esempio di 12 anestesisti rianimatori per 14 posti letto, cioè noi lo utilizziamo in genere come parametro minimo per far funzionare un modulo da 8 posti letto. Si parte da presupposto sbagliato da parte di chi l'ha detto soprattutto in regione e tra l'altro che ricopre incarichi importanti si tratta di confondere, di pensare che l'anestesista rianimatori stia fermo davanti a un monitor. Il timore degli anestesisti è la mancanza di assistenza minima nei confronti dei pazienti. Il mio vero timore riguarda la sicurezza degli utenti, di chi andrà lì e dei medici specialisti, degli infermieri, quindi degli os che sono personale essenziale, che andranno a lavorare lì se non saranno rispettati e dubito fortemente che riescano a rispettare quei parametri che abbiamo concordato che sono, ripeto, livelli essenziali di sicurezza. È evidente che lavoreremo tutti quanti al di sotto di un livello di sicurezza sanitario e questa cosa può portare a conseguenze anche molto serie di cui non possiamo essere ritenuti responsabili noi, ma chi organizza o ha organizzato o non ha organizzato bene. Da non sottovalutare in ultimo la necessità eventuale di trasferire i pazienti dall'ospedale Covid al policlinico e viceversa per eventuali esami di approfondimento diagnostico. I pazienti possono avere bisogno di particolari prestazioni sanitarie che lì all'ospedale in tira non possono essere fatte e si immagina il trasporto inverso se hanno bisogno di questo fino al policlinico e poi ritorno in quella struttura per esempio. Condanne a sei anni e a un anno e otto mesi di reclusione per due delle cinque persone, ritenute a vario titolo responsabili dell'assalto al postamat di Piazza Duomo a Cerignola del 3 agosto del 2019. Lo ha deciso il Tribunale di Foggia al termine del processo che si è svolto con il rito abbreviato che ha condannato Filippo Gioluca Giordano di 29 anni e 6 anni per reati di tentato furto aggravato e porto abusivo di armi e Angelo Pio D'Aluiso di 33 anni a un anno e otto mesi di reclusione per favoreggiamento personale in concorso. Il 3 agosto del 2019 quattro persone miso rassegno un assalto con la tecnica della marmotta allo sportello ATM dell'ufficio postale centrale. La detonazione distrusse completamente lo sportello postamat scaraventandone i detriti a diverse decine di metri di distanza. Dopo pochi minuti, quattro, si dileguarono senza riuscire però ad asportare il denaro facendo perdere le proprie tracce. Nel corso delle indagini i carabinieri avevano individuato il garage nel centro di Cerignola dove si erano andati a rifugiare i quattro subito dopo il fallito assalto. Garage di pertinenza dell'abitazione di uno degli imputati, Filippo Gianluca Giordano. L'altro imputato, sempre secondo l'accusa, avrebbe favorito Giordano e i suoi tre complici facendo sparire, poco dopo l'assalto, diverse tracce del reato spostandole dal garage dove i quattro avevano trovato riparo subito dopo essere fuggiti da Piazza Duomo. A Manfredonia l'emergenza sanitaria ha fatto ulteriormente aumentare la crisi economica, chiudono i negozi e tante altre attività commerciali rischiano di non riaprire più. L'associazione Manfredonia Nuova ha scritto ai commissari straordinari chiedendo di ridurre la Tari. Il riferimento non è solo ai primi mesi del 2021 ma tutto il 2020 quando molte attività commerciali sono state chiuse per diversi mesi subendo danni irreparabili. L'associazione chiede un forte intervento della Commissione per la riapertura dei termini per includere tutto il 2020 in merito al riconoscimento dei costi sostenuti per far fronte all'emergenza. Manfredonia Nuova chiede anche una forma di sostegno e di vicinanza alle imprese che sono state duramente colpite dal punto di vista economico durante la chiusura imposta dal lockdown. La Tari, secondo il sodalizio manfredoniano, dovrà essere calcolata tenendo conto della particolarità delle condizioni determinate dal Covid sulle attività produttive. Colpo di coda dell'inverno l'area fredda che affluisce dalle latitudini settentrionali ha riportato un po' di neve anche in provincia di Foggia dal Gargano ai Monti Dauni più che altro si è trattato di temporali di neve imbiancate le località al di sopra dei 600-700 metri le immagini di Ennio Mascia si riferiscono al borgo di Faeto che con Monte Leone sono i comuni più alti della Puglia. Le precipitazioni raggiungono i 500 metri localmente anche più in basso nevica anche sul Gargano con i fiocchi che riescono di imbiancare trasportati da raffiche di vento che rendono le precipitazioni a carattere di bufera. Pioggia, vento e freddo sul resto della Capitanata con mare in burrasca e raffiche di maestrale l'ultima settimana dell'inverno 2021 sarà caratterizzata da una spiccata variabilità temporali, nevicate e vento forte si alterneranno a schiarite ma con temperature sempre al di sotto della media del periodo almeno fino a sabato prossimo. Torna a vincere il Foggia allo Zaccheria davanti allo sguardo attento della società rappresentata dal presidente Maria Assunta Pintus accompagnata dal direttore generale Filippo Polcino dall'amministratore delegato Edoardo Chighine e dal socio Davide Pelusi. Si conclude con una vittoria di misura l'incontro di ieri con la cavese fanalino di coda di questo girone che Ternana a parte non sta esprimendo un calcio ed un livello ottimale tra le formazioni che lo compongono. Cosa dire della gara dello Zaccheria? Balza agli onori della cronaca più che altro per lo stupore e la meraviglia suscitati il gol di Baldè che di testa regala il successo ai rossoneri. Una vittoria che finalmente consente di sfatare il tabù Zaccheria considerando che non si vinceva tra le mura amiche da lontano 30 gennaio nel vittorioso match con la Casertana. Onore alla cavese ad ogni modo che si è dimostrata una compagine coriacea e coraggiosa che ha onorato la maglia nonostante tutte le vicissitudini vissute in queste tre settimane causa un focolaio da Covid-19 che aveva colpito calciatori tecnici e dirigenti del club metelliano. Non a caso la comitiva campana solo nella giornata di sabato aveva la conferma dei 18 uomini da portare con sé per la trasferta di Foggia. Il Foggia ad onor del vero nella seconda frazione di gara ha probabilmente tirato i remi in barca senza strafare più di tanto pur soffrendo e tenendo tutti col fiato sospeso fino al triplice fischio finale. Rossoneri che poi dopo la sostituzione di Morrone e Baldè a nostro avviso i migliori dei padroni di casa hanno faticato a continuare ad esprimere il gioco della prima frazione di gioco. Diciamo pure che senza Rocca, Curcio e Delprete il gioco latita ed è manchevole di qualità e brio. non siamo impopolari se diciamo che senza di loro è durissima ma non dimentichiamo nemmeno per onestà che nonostante un budget non certo da paperon dei paperoni il secondo più basso del girone questa società ha discrete possibilità di finire tra le prime 7-8 del campionato. Oltre al gol della vittoria firmato al diciannovesimo da Baldè che svettava di testa in aria sugli sviluppi di un angolo battuto dalla destra da Morrone la gara ha vissuto le sue emozioni più importanti nel primo tempo con almeno altre due occasioni per arrotondare il punteggio al trentunesimo D'Andrea imbeccava Garofalo che in diagonale dalla sinistra chiamava Russo alla deviazione decisiva quattro minuti più tardi e lo stesso D'Andrea dalla destra a tentare la via del gol ma angola troppo la sua conclusione che termina al lato del palo alla destra del portiere ospite la ripresa ha vissuto sui cambi dei due tecnici e le ammunizioni fioccate in campo più per gioco falloso che per altro un pomeriggio dal quale prendiamo per buono solo i tre punti e la prima soddisfazione personale di Baldè concetto sul quale anche il tecnico Marchioni era d'accordo a fine gara e al novantesimo con una salvezza ormai matematicamente raggiunta possiamo affermare che la stagione è da ritenere più che positiva e che da questa sera il calendario potrebbe solleticare le ambizioni di questi ragazzi a disposizione del tecnico laziale poi quello che il destino avrà riservato a noi quello che il fato vorrà regalarci ahimè non è dato sapere quel che verrà d'ora in poi di positivo sarà oro colato specie se ripensiamo che il nostro obiettivo di inizio stagione era una salvezza che ormai è stata raggiunta con largo anticipo mai dire mai recita un vecchio adagio del resto l'impossibile è un limite della mente non dell'anima e nemmeno del cuore grazie a tutti grazie a tutti